Ciao a tutti sono giornalismo del Cuore Italia 1, benvenuti alle ultime notizie di oggi Nelle scorse ore Jessica Selassie, vincitrice della sesta edizione del Grande Fratello Vip, è finita al centro dell'attenzione. A quanto pare, ci sarebbe un uomo nella sua vita che conosciamo molto bene, scopriamo chi è . Jessica Selassie si è sempre definita una sfigata in amore, ma a quanto pare la sua situazione sentimentale è completamente cambiata. La svolta nella sua vita privata è arrivata. La reazione dei suoi fan non si è fatta attendere, scopriamo cosa è accaduto Jessica Selassie dopo il GF Vip. Jessica Selassie ha vinto la sesta edizione del Grande Fratello Vip 6 Sin dall'inizio ha conquistato il cuore del pubblico di Canale 5 Il suo particolare caratterino ha subito attirato l'attenzione dei telespettatori che l'hanno prima portata in finale e poi alla vittoria del reality . Durante il suo percorso all'interno della casa più spiata d'Italia ha sempre ammesso di non essere mai stata fortunata in amore . Però, quando al GF Vip è entrato Baru Gaitan non ha mai fatto mistero del suo interesse vero il bel nobile, malgrado lui all'inizio si è mostrato molto frenato nei suoi confronti. Dopo la fine del reality di Alfonso Signorini, non sappiamo molto del rapporto che c'è tra i due . Ma stando a quanto si legge sul web, la vita sentimentale di Jessica Selassie avrebbe avuto una svolta incredibile, scopriamo cosa è accaduto . Jessica Ibarual GF Vip 6. Jessica Selassie, con chi ha passato la notte? Ecco chi è l'uomo misterioso . Da quel che si legge sul web, Jessica Selassie avrebbe trascorso un weekend insieme ad una persona che conosciamo molto bene . Si tratta proprio di Baru Gaitani, incredibile ma vero. I due sono sempre osservati da milioni di fan e secondo alcuni di loro, la principessa e il nipote di Costantino della Gerardesca avrebbero trascorso la notte insieme . Uno dei tanti indizi che avrebbe scatenato tutti questi sospetti è la strana sparizione dai social di entrambi nello stesso momento . Purtroppo, non abbiamo la conferma del loro avvicinamento, dato che i diretti interessati non hanno detto nulla al riguardo, ma alcuni fan sarebbero convinti di questo loro segretissimo incontro . Non ci resta che aspettare per scoprire cosa accadrà tra Jessica e Baru. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere . Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità . Ci vediamo nei prossimi video.